Cari amici, come sapete la vicenda più sconvolgente di questa estate è quella di Bibiano, in cui i bambini venivano sottratti senza motivo alle loro famiglie naturali per essere dati in affidamento a coppie, a volte a coppie omosessuali, per motivi francamente incomprensibili, forse criminali direi. Ma al di là dell'inchiesta, al di là del coinvolgimento meno di questo o quel partito, ricordo che ci sono indagati per questo e per altre vicende e consigli di tre sindaci del PD, che anche il Movimento 5 Stelle in qualche modo pare aver finanziato la ONLUS che si occupava degli affidamenti, mettendo da parte la questione giuridica e anche quella politica, volevo semplicemente far notare una cosa, che questo tipo di abuso terribile e spregevole trova una giustificazione nell'ideologia corrente, diciamo nell'ideologia dell'opinione pubblica progressista, per la quale il vero titolare dell'educazione del bambino non è la famiglia, bensì lo Stato. Ecco, proprio questa statolatria porta poi all'idea che solo i servizi sociali possono capire se un bambino sta bene, sta male, dove deve essere collocato e di conseguenza questa ideologia apre la porta agli abusi, abusi che in più sono anche seriali, perché essendo essendo esercitati dallo Stato naturalmente possono essere continui. Dunque questa vicenda allucinante, dopo che avrà prodotto risultati sul piano giuridico e anche sul piano politico, dovrà essere lo spunto per ripensare a che cosa chiediamo noi all'educazione e a chi riteniamo che sia in diritto di dire l'ultima parola sull'educazione dei propri figli, in questo caso la famiglia per noi.